Bene, cominciamo il nostro viaggio, voi immagino sappiate chi sia questo, se non lo sa ve lo dico io, è Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo esploratore di quello italiano che, talvolta anche casuale, ma comunque ha scoprì quelle che sono oggi le Americhe e colonizzò le Americhe. Perché questo personaggio? Perché quello che vogliamo fare è un nostro viaggio all'interno del mondo Axians, che vede varie tappe che andremo a sviluppare durante la presentazione e che cominciamo con quelle che sono oggi le nostre business unit. Axians oggi è un brand composto da tante business unit, piccole aziende, d'accordo, autonome ma non indipendenti, all'interno di quel panorama che è Vinci Energies. E Vinci Energies è un'azienda che fa parte di un gruppo ancora più grande che è il gruppo Vinci. Quello che vedete sono i nostri uffici che abbiamo a Parigi e questi sono i numeri che oggi Vinci fa nel mondo. Siamo un'azienda che fa un fatturato di quasi 62 miliardi di euro, che ha al suo interno circa 271 mila persone e che vede il proprio business diviso in quelle che sono concessioni autostradali, concessioni di aeroporti, per la parte di tutte le costruzioni, la parte anche di servizi che vanno sotto il cappello di Vinci Energies. E quindi Vinci Energies è quindi un sotto insieme di quello che è il mondo Vinci, con un fatturato di circa 16,7 miliardi di euro nel 22 e una presenza nel mondo in 22 paesi, con circa 90 mila collaboratori. E all'interno di quello che è Vinci, come vi dicevo inizialmente, abbiamo tra gli altri Axians, il brand che si occupa di tutto quello che riguarda la trasformazione digitale nel mondo ICT. A fianco a questi abbiamo altri brand che sono un brand che si occupa di tutto quello che riguarda la trasformazione digitale nel mondo ICT. Un Actemium, Omexone Siteos e Vinci Facilities, di cui Vinci Facilities e Actemium anche presenti in Italia, che hanno una declinazione e si occupano principalmente di diversi altri settori. Entriamo poi a questo punto qui in quello che è Axians Italia. Come vedete, l'anno scorso ha fatto un fatturato di quasi 94 milioni di euro. Quest'anno chiuderemo a oltre 100 milioni di euro, con oltre 350 collaboratori oggi presenti. Siamo presenti in 15 città e, come vedete, la nostra dislocazione con le sedi principali è capillare su tutto il territorio, più abbiamo sedi secondarie che ancora di più intensificano la nostra presenza sul territorio nazionale. Noi, come Vision, all'interno di Axians, andiamo ovviamente, siamo un'azienda tecnologica, dobbiamo andare e cerchiamo sempre quello che c'è di nuovo all'interno tecnologico e di quant'altro. Ma oltre a questo, per noi, e lo vedremo sempre più avanti nella trattazione, quello che ci interessa sono le esigenze delle persone, che per noi le persone, insieme ai nostri clienti, sono al centro del nostro mondo e del nostro modo di fare business. E come noi ci andiamo a presentare sul mercato con fondamentalmente sei principali competenze, quelle che sono tutta la parte di infrastruttura, di telecomunicazioni, quindi tutta la parte di cablaggi, di reti e quant'altro. Il mondo cloud e data center infrastructure, quindi tutto il mondo di andare a calcolare, quindi potenza computazionale, spazio di archiviazione e tutti quelli che sono i servizi, che andiamo a presentare ovviamente a quelli che sono i nostri clienti o che aiutiamo i clienti a mettere in piedi. Oggi c'è un fortissimo sviluppo di quello che è il mondo cloud. Tutta la parte di enterprise network, che insieme alla parte dei cablaggi, ovviamente qui è la parte superiore, in cui andiamo a far che cosa, a distribuire, a cedere alle varie risorse mediante la rete. Siamo partner importantissimo per Cisco, abbiamo altri vendor con cui lavoriamo. Andiamo quindi a montare le reti, sia delle piccole che delle medie, che delle grandi aziende. Abbiamo tutta la parte di gestione del dato, del digital workspace, quindi il lavoro da remoto, la parte di presentazioni, i tool per andare a una delle nostre grandi business unit, sono quelle che lavorano su quello che è il mondo del digital signage, quindi pensate alla cartellonistica all'interno delle metro, dei grandi negozi, dei grandi store, piuttosto che tutta la parte di analisi del dato. E ultimo non ultimo, quello che è ovviamente, facciamo queste cose in sicurezza, quindi dobbiamo fare in modo tale che i nostri clienti, che si affidano a noi per i propri sistemi, per la propria infrastruttura, lo facciano in maniera sicura. Quindi una competenza verticale su quello che è il mondo cyber security. Dove lo facciamo questo? Ovviamente lo facciamo con delle business unit che, come vedete, vanno sul mercato. Quindi abbiamo una business unit di retail e GDO, la grande distribuzione, la parte di pubblica amministrazione, le infrastrutture e trasporti, il mondo cruise, costruiamo le reti all'interno delle grandi navi da cruciera, tutto il mondo enterprise. Come vedete, ognuna di queste ha le sue peculiarità, abbiamo quindi delle business unit proprio di mercato, che vanno e propongono i nostri servizi sul mercato. Abbiamo poi tutto il mondo che riguarda la parte di sicurezza e quello che sono la parte di servizi gestiti, perché ovviamente il cliente non è che lo abbandoniamo, lo curiamo, lo supportiamo a gestire la propria infrastruttura e a migliorare i propri livelli di servizio. E come lo facciamo? Ovviamente il nostro approccio è quello di ascoltare i nostri clienti, quindi analizziamo le loro esigenze, cerchiamo di calarle a terra, cerchiamo di condividere con loro un percorso di sviluppo della propria rete, creiamo dei piani di consolidamento, dei piani di remediation, per poi andare a progettare le proprie soluzioni. Ovviamente progettate queste soluzioni le andiamo ad implementare e come vi dicevo io non le abbandoniamo, ma le andiamo a supportare in quelle che sono tutte le attività di operation e di servizi e di gestione della propria infrastruttura, in un ciclo continuo, perché ovviamente mano a mano possono nascere nuove esigenze, nuove normative, nuove necessità che devono essere quindi soddisfatte. E questo un po' riassume quello che ci siamo detti, i clienti al centro, le esigenze del cliente al centro, il mondo di tutte quelle che sono oggi le nostre business unit, le nostre competenze più che business unit, a servizio dei nostri clienti, tutto il mondo della parte di comunicazione, quindi come andiamo a interfacciarsi con loro e ultimo in ultimo i mercati dove andiamo a lavorare. Quindi abbiamo visto il central local government, l'industry, quello che riguarda il mondo healthcare e quant'altro, per appunto andare a coprire a 360 gradi quello che è il mondo ICT. E come lo facciamo questo qui? Quindi qual è la nostra flotta? Chi è che ci porta in questo mare, in questo mercato, in questo mondo dell'ICT? Ovviamente sono le nostre business unit. Le nostre business unit che ci abbiamo visto prima vanno sul mercato proponendo i nostri servizi che poi verranno erogati dalle strutture di competenza per andare appunto a soddisfare le esigenze del cliente. Tra le principali nostre business unit ci sono ovviamente tutta quella che è la parte enterprise. L'Italia è un mondo che si basa molto su quello che è il mondo enterprise, quello che è l'industria, quelle che sono le piccole e le medie industrie, le piccole e le medie imprese. Questo è un mercato ovviamente su cui noi lavoriamo molto e su cui ovviamente forniamo le nostre soluzioni. La nostra business unit enterprise quindi va a offrire tutta quella serie di servizi, di competenze che abbiamo visto prima su quello che è il mondo dell'industria. e su questo quindi noi comprendiamo anche tutto il mondo finance con soluzioni che sono customizzate. Noi appunto iniziamo dei system integrator ma andiamo a integrare le soluzioni di mercato all'interno della realtà del cliente proprio per soddisfarne le proprie esigenze. Abbiamo visto abbiamo poi una business unit dedicata, anzi addirittura ne abbiamo due, una per la pubblica amministrazione centrale, una per la pubblica amministrazione locale che si occupano di pubblica amministrazione. Quindi su questo andiamo e abbiamo una forte conoscenza di quelle che sono tutte le convenzioni a cui poter aderire, capire quelle che sono le esigenze, quindi andare in termini di network, cyber security, servizi, a supportare quello che oggi è un mondo che ha una estrema necessità di rinnovarsi. Perché? Perché comunque vada, lo leggiamo tutti i giorni dai suoi giornali, i soldi legati, che vengono dati alla pubblica amministrazione non sono mai abbastanza e spesso sono rigirati su altre necessità. Oggi la rete e i servizi di collaboration, di physical security, di sicurezza che la pubblica amministrazione va a implementare sono ancora obsoleti, quindi su questo abbiamo molto da lavorare e qui ci proponiamo veramente come un'azienda che può aiutare tutti questi enti. La parte di cui prima ho accennato, di digital signage o di comunque vada, di avere esperienze in quello che è il mondo retail e GDO, è un altro dei nostri vertical di mercato. Abbiamo una business unit dedicata che appunto lavora con la grande distribuzione, con i marchi del luxury, con appunto tutto quello che può riguardare la distribuzione ed il retail. Quindi allestiamo i negozi, andiamo a implementare soluzioni all'interno del negozio, sia per far funzionare quel negozio o quella grande centro commerciale, o per darne pubblicità e quindi creare quegli schermi, tutti quelli, appunto il digital signage che oggi vediamo in qualunque store, in qualunque negozio, in qualunque metropolitana e quant'altro. E appunto parlando di metropolitana, un altro dei nostri vertica di mercato è la business unit transportation. Su questo noi lavoriamo con i più grandi player del mondo in questo qui. Abbiamo avuto la possibilità di andare a sviluppare e mettere le nostre competenze, le nostre reti sia in termini di creazione della rete, di monitoraggio della rete e di sicurezza della rete addirittura all'estero, alle Hawaii, in Canada. Siamo riusciti a quindi lavorare con quelli che sono oggi i mezzi di segnalazione sulle ferrovie in Italia, e quant'altro. Quindi anche con progetti innovativi. E chiudo con quello che vi dicevo prima, l'ultima business unit su cui noi oggi spesso lavoriamo e che è buona parte anche dei nostri ricavi, quello che è il mondo cruises. Questo qui è una business unit molto verticale, molto dedicata per grandi armatori. andiamo a costruire e andiamo a montare, dalla progettazione fino al deployment e fino anche al monitoraggio in H24, andiamo a vedere quella che è la loro rete e infrastruttura di una nave. Voi potete pensare quanto può essere grande una nave da crociera, voi pensate i metri e chilometri di cavi che ci possono essere, tutti quelli che sono i servizi a bordo nave, quello che può essere la sicurezza, quello che può essere appunto il potere di usufruire a bordo di una nave da crociera. Bene, noi aumentiamo queste cose, progettiamo queste cose e le andiamo poi a monitorare. Nel nostro control room, che vedremo più avanti, abbiamo proprio un sistema di monitoraggio in cui anche se la nave è in navigazione dall'altra parte del mondo, riceviamo i segnali. Se c'è qualcosa che non funziona, i nostri tecnici possono intervenire da remoto o eventualmente, diciamo, un site quando la nave arriva in porto per andare a sistemare quello che non funziona. E come lo facciamo questo? Quindi abbiamo visto, abbiamo declinato che siamo una flotta di business unit che vanno sul mercato, ma poi a queste business unit dobbiamo dare degli strumenti e gli strumenti cosa sono? Le competenze. Quindi quello che poi diamo, che già ci sono una parte di competenze all'interno di ogni business unit, ma poi abbiamo bisogno di essere specialisti di quello che facciamo, di essere più bravi rispetto ad altri per quello che possiamo andare a declinare. E questo lo facciamo con i nostri strumenti che sono i competence center. I competence center sono delle business unit che, a differenza di quelle precedenti, non vanno sul mercato, ma hanno una forte verticalità in termini di conoscenze tecniche e tecnologiche, di progettazione, di pre-vendita tecnica, a servizio delle business unit e quindi a servizio del mercato, quindi a servizio dei clienti. Uno di questi è il competence center manager services che appunto è quella parte che fornisce servizi a livello infrastrutturali di supporto, tecnologie, in termini di proattività, in termini di gestione del servizio, per supportare le infrastrutture dei nostri clienti. È divisa in tre strutture principali, funzionali, che sono tutta la parte di engineering, cioè dove andiamo a disegnare e a capire quelli che possono essere nuovi servizi, nuove integrazioni, capire cosa possiamo, quali strumenti pratici alle business unit per poter andare sul mercato. Abbiamo poi una parte di service che è quella che si occupa di gestire, di erogare il servizio in H24, quindi arriviamo a coprire in H24 il servizio di supporto al cliente. L'esempio che vi ho fatto prima del cruise è all'interno di questo mondo service. Abbiamo poi ovviamente una tutta un'unità, una funzione di performance che ha il compito di andare a misurare come questi servizi vengono erogati nel rispetto ovviamente contrattuale e l'isla del cliente, nel rispetto di quelle che sono le esigenze che possiamo avere anche noi, nel rispetto e nel migliorare sempre di più il servizio verso i nostri clienti. E di cosa ci occupiamo? Beh, monitoraggio del network, quindi andiamo a capire se la rete sta funzionando. Adesso la banalizzo, capiamo se la rete funziona, se non funziona cerchiamo di immediatamente, in maniera proattiva, di andare ad attivare le correzioni. Come vi dicevo prima, riceviamo l'allarme sulla nave, cerchiamo di risolverla, dove non si risolvere, vediamo di fare escalation a un dipartimento interno, ad un'altra funzione, piuttosto che a un terze parti che può essere il vendor o un partner worldwide. e copriamo tutti i vari tipi di fasce orari secondo le decisioni del cliente fino ad arrivare a un 24 per 7, quindi una copertura global su tutta la giornata lavorativa. L'altra parte è tutta la parte di network managing che si va a legare a quello che abbiamo visto prima, quindi dalla parte di, non solo di segnalazione di errori, ma proprio di gestione della rete. Quindi il cliente che magari non ha nelle competenze oppure non ha le forze necessarie per gestire la propria rete affida ad Axians quello che è la gestione della propria rete. E anche in questo caso qui abbiamo, come vedete, personale direttamente a Axians Italia distribuito geograficamente in tre dei nostri grossi centri che sono Roma, Torino e Vicenza per dare un servizio di manutenzione proattiva, quindi il cliente sa che siamo noi in maniera proattiva a gestirgli la propria rete. Vado avanti con quelle che sono ovviamente tutta la parte di richieste e di gestione di quelle che possono essere standard change, major change, reportistiche, quindi il cliente di nuovo ha accanto a sé un partner che lo aiuta per le proprie esigenze e le proprie richieste. Quindi ci sono tutta una serie di attività che concordiamo con il cliente e poi il cliente dice ok, dovete aprire questa cosa, questa porta, dovete chiudere, cambiare quella vulana, dovete quindi intervenire sui sistemi per andare a fare delle modifiche. Modifiche possono essere semplici oppure possono essere modifiche complesse che quindi possono richiedere dei fermi e che quindi insieme al cliente andiamo a gestire e a coordinare. Ogni cosa che facciamo viene quindi monitorata e vengono generati quelli che sono i report periodici per i clienti. Facciamo poi tutta una parte di supporto hardware e software per le infrastrutture di rete quindi andiamo a gestire quelle che possono essere eventuali rotture delle infrastrutture, quei problemi sul software e andare a gestire quindi di nuovo andiamo a supportare il cliente nella gestione della propria infrastruttura di rete o in generale del proprio sistema quindi client, server, postazioni, fonia, quindi quello che può essere il supporto alla gestione del day by day del cliente. Abbiamo poi tutta una parte di servizi aggiuntivi che possiamo erogare che arrivano fino all'intervento on site da parte del cliente ed è sul cliente o sul partner o sul portal partner oppure addirittura dare al cliente delle risorse per aiutarlo presso la propria sede quindi con dei presidi on site a gestire il proprio business quindi gli prestiamo gli vendiamo le nostre risorse tutto questo di nuovo con una gestione sempre controllata da quelli che oggi sono i nostri service manager che quindi hanno il controllo del servizio il monitoraggio del servizio e sono in grado quindi di adattarsi anche alle esigenze del cliente nel rispetto di contratti e di SLA che sono presenti ultimo ma non ultimo tutto quello che riguarda poi il mondo oggi del cloud del data center questa è una parte che si è si sta evolvendo che si sta muovendo una delle competenze più importanti sapete che in molti casi molte aziende stanno migrando da quello che sono infrastrutture on premise a infrastrutture in cloud e su questo quindi di nuovo diamo le competenze a 360 gradi di monitoraggio gestione dei backup e aggiornamento dei sistemi proprio per aiutare i clienti nella gestione della propria infrastruttura e come ci eravamo detto all'inizio beh abbiamo creato il substrato di rete lo riusciamo a monitorare abbiamo tutti i nostri servizi beh questi devono essere erogati in modo sicuro e quindi il cliente deve avere un'infrastruttura che sia sicura che sia potenzialmente inattaccabile e che di nuovo deve essere gestita lo dobbiamo aiutare abbiamo quindi il competence center di cyber security che eroga servizi su quattro pillar principali tutta la parte di consulenza che poi andremo a vedere dopo ma riguarda le attività di analisi della infrastruttura e delle procedure che un cliente può avere in essere e la parte diciamo di offensive security che quindi vanno nel cappello proprio di consulenza che in realtà è tutto il nostro red team quindi fanno attività di ethical hacking abbiamo poi una parte difensiva quindi un'attività e un team che si occupa di difendere in maniera proattiva le infrastrutture del cliente il nostro SOC e infine abbiamo un purple team che oltre ad essere l'anello di unione di congiunzione tra quello che è il team il blue team il defensive security e la red team l'offensive security è anche quello che si occupa di dare un'assistenza sui sistemi del cliente oltre a occuparsi di tutta quella che è la parte di progettazione e delivery di soluzioni di security andando velocemente un pochino in quello che facciamo per ognuno di questi pillar come vedete nella parte di info security consulting quello che andiamo a fare sono le attività di governance di standard compliance di low compliance quindi andiamo a vedere quanto un'azienda all'interno di infrastrutture o di procedure si va ad adattare ad una determinata legge ad un determinato regolamento ad un determinato standard questo sia a livello IT che OT che oggi industrial con l'IC62443 che è uno standard de facto per tutto il mondo industriale su tutta questa parte qui aiutiamo quindi a fare risk assessment e procedure tutta la parte di gestione del rischio in maniera procedurale affinché quando succede qualcosa il cliente sappia che cosa deve fare indipendentemente da quello che poi è come lo farà ma deve sapere cosa deve essere fatto a complementare questa parte capiamo anche quanto quel cliente è debole quanto può essere attaccabile ed ecco che quindi il nostro team di ethical hacking fa che cosa delle simulazioni di attacco affinché per capire qual è la postura di sicurezza di quel cliente sono attività delle fotografie volete immaginare che quando facciamo queste cose qui siano delle vere e proprie fotografie all'interno delle quali noi diamo poi un report dicendo che al giorno tal dettaglio lo stato di sicurezza di questa del cliente è in una scala da 0 a 10 faccio un esempio 7, 8, 5, 2 quello che sarà queste cose e andiamo a analizzarle sia internamente sia sul mondo dark e deep web con quelli che sono i nostri servizi di cyber tracking per chi segue un po' il mondo della cyber security sa anche che quello che facciamo oggi domani è già vecchio le minacce sono sempre evolute ed ecco che quindi nasce un po' l'esigenza di fornire non più soltanto una fotografia ma un servizio ai nostri clienti un servizio ricorrente secondo degli SLA di monitoraggio dell'infrastruttura di sicurezza e quindi abbiamo il nostro SOC che va a monitorare a correlare tutti gli eventi che si ricevano per capire se ci sono minacce in corso e prevenirle non fare più un vulnerabilità sesso una foto delle vulnerabilità ma fare una continua gestione con il vulnerability di management non andare a fare una fotografia di quello che appare sul dark e deep web ma andarne a fare un servizio continuativo di cyber threat intelligence da dove poi i clienti abbiano necessità o anche i non clienti su questo noi molti clienti ci hanno molti non clienti cioè persone che non erano aziende che non erano nostri clienti ci hanno chiamato per aiutarli a rispondere a un incidente di sicurezza erano stati bucati erano stati vittime di un ransomware gli abbiamo aiutati a rimediare e a rientrare e rientrare operativi dopo un incidente li aiutiamo a gestire la sicurezza di tutti i loro end point con soluzioni di managed end point detection and response tutto questo lo facciamo con delle tecnologie tutto questo lo facciamo con i nostri analisti lo facciamo con quello che studiamo le nostre certificazioni e quant'altro abbiamo bisogno però di tecnologie quali sono gli ambiti dove interveniamo beh li vedete qua sono quelli classici oggi del mondo IT e quindi abbiamo parlato prima di cloud abbiamo parlato prima di network abbiamo parlato prima di mondo industriale bene che cosa ci aggiungiamo in più quella parte di security ok quindi quello che facciamo è mettere in sicurezza il cloud mettere in sicurezza le comunicazioni e comunicazioni all'interno solo proprio la rete intesa per sé ma come vedete la parte di mail la parte di end point la parte di network stessa il tutto il mondo industriale con quello che riguarda il mondo appunto dell'IoT e quant'altro e ultimi non ultimi sono mettere in sicurezza le cose più importanti che oggi abbiamo le nostre identità e i nostri dati ecco che quindi quelli che sono i progetti di identity e data security sono oggi quelli che più ci vengono chiesti su cui dobbiamo lavorare perché? perché sono questi oggi i principali target di un eventuale attacco e questo lo facciamo ripeto dalla parte di progettazione fino ad arrivare a quello che è il diciamo il rilascio del progetto non abbandoniamo i nostri clienti come vi dicevo prima li aiutiamo a sopportarli con quelli che sono oggi i nostri security operation management service che si vanno affiancare a quelle che abbiamo visto prima del ccms ma perché di nuovo sono più legati al mondo della security e come eroghiamo questi servizi? beh eroghiamo questa qui è una foto di uno dei nostri centri di controllo d'accordo quello che vi dicevo prima dove si vedono le mappe anche delle navi e quant'altro in cui lavoriamo e dove ci sono i nostri colleghi che in H24 vanno a monitorare lo stato della rete la sicurezza della rete oggi noi abbiamo tre di questi centri in Italia Vicenza Torrino e Roma e in più facciamo parte di quello che è un network di Axians quindi del nostro brand dove i vari centri che vedete sulla cartina sono tra di loro indipendenti quindi ognuno di noi e ve ne dico c'è un altro questa cartina va aggiornata c'è anche in Svizzera e sono tra di loro indipendenti ma tra di noi collaboriamo quindi all'interno di quello che oggi l'ecosistema Axians in maniera periodica circa due o tre volte l'anno ci troviamo i vari responsabili che si trovano in qualche country europea per andare a condividere esperienze esigenze e quant'altro mettendo a fattore comune quelle che sono le esigenze i rischi e quindi cercare di migliorare quello che è il mondo oggi dei servizi come siamo strutturati in questo momento qui abbiamo quindi per come vedete per i clienti per i clienti noi siamo trasparenti abbiamo un sistema un primo livello in H24 che riceve la chiamata e dove vedete ci sono le varie specializzazioni per quelle che sono oggi i nostri pillar di competenze i nostri strumenti come li abbiamo chiamati abbiamo quindi un primo livello e un secondo livello e qual è la forza di Axians che laddove qualcuno abbia un'esigenza in lato network ma l'operatore il nostro collega si rende conto che potrebbe essere un problema di security beh facilmente può parlare con il collega di cyber security e viceversa per cercare di capire d'accordo dove può essere il problema e cercare di rimediare quindi abbiamo questo tipo di approccio dove per il cliente è completamente trasparente il cliente si affida ad Axians per la gestione della propria infrastruttura e della propria rete l'altra parte che ci contraddistingue è avere sempre un qualcosa che sia evolutivo quindi qui io ho parlato oggi fino a questo momento qui di tante cose che sono abbastanza standard tante nostre competitor lo fanno abbiamo delle peculiarità su una tecnologia altri ce l'hanno sulle altre ma ci muoviamo in un mondo abbastanza standard però uno dei pregi di Axians è quello di guardare cercare di guardare oltre di evolversi e perché per noi evolversi vuol dire essere sempre competitivi d'accordo e una di queste evoluzioni che abbiamo fatto ce l'ha reso possibile un altro pezzettino un altro strumento che noi abbiamo che è la nostra software factory all'interno di questi competence center abbiamo appunto la nostra software factory persone che oltre a sviluppare le applicazioni nostre interne customizzate per noi sviluppano soluzioni per il mercato e una di queste è appunto persona questa persona questa è una piattaforma di monitoraggio del mondo IoT quindi possiamo andare a fare che cosa andare a integrare quelle che sono fonti IoT quindi sensori telecamere e quant'altro per andarne a vedere rilevare misurare le performance i tipi rispondere quindi ad applicare determinati tipi di azioni e questo è bello è un modello molto tecnico che dice che bene lo abbiamo fatto così ma poi se lo dovesse andare a calare all'interno di quello che è la realtà beh un esempio è un modo di vivere diversamente la città le città del futuro sempre di più sentiamo parlare di smart cities quindi andare a vedere di andare a gestire di andare a controllare d'accordo le telecamere che sono sui lampioni andare a vedere come si accendono o meno le luci capire di farlo in maniera smart in modo tale siamo tutti attenti ai consumi e quant'altro di accendere le luci dove c'è effettivamente bisogno di spengere dove non c'è bisogno questo fatto sia per le strade sia all'interno di una casa gestire le temperature del riscaldamento e quant'altro in ottica di preservare consumi migliorare l'efficacia dei nostri sistemi avere un'attenzione non meno importante a quello che è l'ambiente ecco che quindi abbiamo fatto tutta una serie di sistemi che possiamo gestire con persona di gestione appunto di diversi sensori che si vanno applicare a diversi tipi di building o di cities e questo l'abbiamo anche fatto questi sono tre progetti pubblici d'accordo che sono stati fatti sono stati implementati per andare nella città di Firenze in due giardini pubblici sono stati inseriti e configurati dei sensori per la gestione l'ottimizzazione dell'irrigazione questo ha permesso un risparmio di qua del 30% provate a immaginare a moltiplicare questi numeri quindi sono delle cose che sono nate con l'idea di innovazione ma che sono state calate sono in realtà vera porto di Genova migliorare la qualità dell'aria città di Venezia andiamo a quello che noi abbiamo chiamato il people counting voi sapete che a Venezia hanno un problema di gestire l'enorme afflusso di turisti che va a visitare la città lagunare bene ci hanno chiesto di andare a misurare a monitorare a contare le persone che entrano attenzione qui non andiamo a vedere chi è andato noi misuriamo dei metadati quindi andiamo a prendere soltanto chi è entrato chi non è entrato in termini numeriche quindi nel completo rispetto di qualunque normativa di qualunque compliance ma ritorno al discorso di prima siamo conosciamo quelle che sono anche le leggi conosciamo le normative quindi possiamo calarle all'interno dei nostri progetti tutto quello che vi ho detto siamo tanti facciamo tante cose lo possiamo fare siamo sul mercato facciamo dei bei numeri facciamo innovazioni non lo possiamo fare con senza il nostro equipaggio come le bar che Cristoforo Colomo non sarebbe andato in America senza il suo equipaggio bene l'equipaggio per noi le persone quindi diventano un punto focale per noi il nostro claim è axianza the best of ICT with a human touch questo per dire per sottolineare che per noi le persone non sono seconde al business perché senza sicuramente senza i nostri clienti che sono al nostro centro noi non faremo business ma senza le nostre persone non saremo in grado di soddisfare i nostri clienti e quindi di fare business e quindi ecco che qui noi ci siamo visti che abbiamo sicuramente un portafoglio completo di soluzioni abbiamo visto che le nostre conoscenze vanno veramente dal filo fino alla cyber security al cloud non abbandoniamo i nostri clienti li supportiamo dall'inizio nella definizione delle proprie esigenze nel capire le proprie esigenze fino a buttarle a implementarle e a calarle in metterle in opera e a supportarle dopo il messo in opera cerchiamo sempre l'innovazione lo abbiamo fatto con nuovi nuovi progetti lo continueremo a fare continueremo a investire in quella che è l'innovazione e a tenerci informati quindi abbiamo un portafoglio possiamo dire che abbiamo un portafoglio completo di soluzioni per rimanere competitivi e lo facciamo però con human touch cioè noi come vi dicevo investiamo nelle azioni con i clienti e con le nostre persone perché siamo convinti che in un posto di lavoro dove si sta bene le persone sono anche in grado di produrre di più quindi lo facciamo con vedete diverse figure che vanno ovviamente a 360 gradi dalla parte dei sales alla parte della sviluppo e software alla parte di project management quindi abbiamo anche la capacità di assicurare una crescita al nostro interno per andare a soddisfare le esigenze normalissime di una persona che comincia ma poi vuole crescere vuole migliorare bene abbiamo diverse posizioni che ci permettono mano a mano di far crescere le nostre persone con che cosa dei valori che dobbiamo sempre ricordare autonomia noi ci fidiamo delle nostre persone le nostre persone lavorano per obiettivi lavorano portando avanti un qualcosa che è un bene comune la soddisfazione dei nostri clienti ascoltiamo le nostre persone quindi le nostre persone hanno uno spirito imprenditoriale perché perché appunto sono loro sul campo tante volte e quindi i loro feedback li ascoltiamo nel bene e nel male per migliorare i nostri servizi siamo diamo fiducia alle nostre persone non abbiamo controllo non abbiamo noi non dobbiamo timare il cartellino ci fidiamo di quella e lavoriamo come vi dicevo per obiettivi d'accordo le nostre persone si fidano di noi noi ci fidiamo le nostre persone e questo che comunque vada è un motore per andare avanti responsabilità e solidarietà beh sicuramente responsabilità tutte queste autonomie fiducia spirito richiedono una responsabilità che chiediamo e diamo alle persone che lavorano con noi e la solidarietà vero io ho parlato di business unit è vero abbiamo parlato di competence center abbiamo parlato di mercati diversi ma siamo Maxians Italia siamo un'unica azienda ci si dà una mano non è che il mio successo d'accordo è un motivo di vanto se qualcun altro va male siamo ci aiutiamo se c'è un collega in difficoltà lo aiutiamo siamo sempre una squadra e poi vedremo anche avanti ci andiamo anche a divertire insieme in quest'ottica qui siamo un'azienda che vuole stare sul mercato deve avere forti competenze questo è sono numeri se non ricordo male dell'anno scorso quindi sono addirittura migliorati questi qua ma come vedete abbiamo una fortissima attenzione alle certificazioni alle crescite in termini di competenze delle nostre persone le nostre persone devono crescere devono avere tecnologie l'azienda deve essere certificata verso il mercato per dare sempre dei servizi a valore aggiunto stiamo attenti a quello che è il diciamo il nostro commitment sul anche verso la società questo è giusto come un esempio un nostro motivo di vanto la slide diciamo la foto di destra il knock in prison è un progetto che abbiamo fatto in cui ci sono delle persone oggi che stanno scontando una loro pena all'interno del carcere che in realtà hanno avuto modo dato dal carcere e da noi di formarsi in ambito Cisco sono diventati degli esperti di Cisco stanno erogando servizi di network operation center insieme a noi hanno si stanno ricostruendo una vita e ci sono dei colleghi che stanno venendo in ufficio da noi che ricominceranno una volta usciti dal carcere a rifarsi una vita quindi su questo abbiamo sempre un'attenzione molto particolare a veramente cercare le persone a cercare di poter porre un rimedio anche a errori fatti come pure una partecipazione a molti eventi tipo ad esempio il festival dell'umano che è proprio una cosa recentissima in cui abbiamo partecipato come sponsor d'accordo per un social commitment che comunque vada è sempre importante abbiamo una fortissima attenzione a queste slide giusto per dire per trasparenza come vedete rispetto alle altre sono in inglese le ho prese direttamente dal nostro piano strategico piano strategico condiviso a livello global in cui quindi sono slide che noi abbiamo presentato all'axianza la vinci a livello global quindi quello che noi andremo a fare e quindi un'attenzione veramente particolare verticale di quelle che sono oggi anche l'integrazione quindi aumentare passatemi il termine le quote rosa all'interno dei nostri team sapete che l'IT è sempre stato un po' appannaggio maschile beh oggi sempre di più d'accordo in varie posizioni stiamo portando dentro d'accordo e con successo e con grandissima soddisfazione sempre molte più ragazze e quindi per un'operazione di gender balance ma anche di benessere aziendale con cosa con nuove aree di investimento con welfare con gadget con feste con manifestazioni con cui possiamo andare sempre di più a far star bene le nostre persone tutto questo in un'ottica di un progetto che abbiamo chiamato smart change dove insieme diciamo possiamo costruire sia il nostro futuro che quello di axianza lo smart change è un'evoluzione ancor più dello smart working lo smart working diventa uno strumento all'interno dello smart change per noi smart change è ripercorrere quei valori di cui abbiamo parlato prima in cui ci fidiamo delle persone le persone si fidano di noi lavoriamo per obiettivi lavoriamo nel rispetto dei colleghi del cliente dell'azienda dei valori che oggi ci andiamo a fare e anche degli impegni che andiamo a prendere sul mercato o all'interno diciamo dell'ecosistema axianza quale ad esempio come vi dicevo prima diversity and inclusion fiducia solidità autonomia responsabilità spirito e imprenditoriale i valori che ci sono detti questo è il nostro albero dei valori un impegno importante per la sostenibilità per noi la sostenibilità ambientale abbiamo aderito un grande progetto che vede entro il 2030 una riduzione importante di quelle che sono le emissioni ambientali sull'ambiente l'impatto che abbiamo sull'ambiente ricordo che siamo 270.000 persone quindi anche un poco possiamo far tanto e ecco che quindi all'interno delle nostre giornate lavorative facciamo quelle che sono le best practice quindi momenti di condivisione di come possiamo vivere meglio di come possiamo essere più sicuri di come possiamo lavorare in sicurezza per noi la sicurezza sul lavoro è importantissima dalla sicurezza alla guida dalla sicurezza per chi fa impianti e quant'altro è una cosa importantissima e di primaria importanza su quell'azienda investe moltissimo beh ogni tanto andiamoci anche a divertire quindi tutte queste cose che andiamo a fare beh andiamoci organizziamo magari la partita di calcetto l'aperitivo insieme la cena la festa perché no perché comunque vogliamo vivere anche abbiamo anche i momenti in cui possiamo star bene all'interno dell'azienda creiamo appunto una cultura della sostenibilità abbiamo indetto quest'anno delle colazioni in cui abbiamo parlato di sostenibilità aziendale ci siamo trovati la mattina abbiamo fatto colazione tutti insieme e abbiamo parlato di sostenibilità quelle che era all'interno del Vince Environment Day sempre di più ci stiamo spostando con una raccolta di differenziate andare a cercare di inquinare meno magari utilizzando macchine elettriche ci stiamo elettrificando abbiamo cambiato i contratti con molti fornitori di energia avendo usando ad esempio fornitori che usano energie rinnovabili e quant'altro quindi c'è un impegno importante in ottica di sostenibilità per noi fa parte di quello che è il nostro essere Axians chiudo praticamente ho finito con quello che ovviamente perché scegliere Axians beh sicuramente abbiamo un approccio a 360 gradi su quello che è il mercato abbiamo un approccio per andare a disegnare soddisfare il cliente non andando a vendere un un pacchetto una cosa ma disegnando soluzioni di su misura abbiamo una forza che è quella di poter essere parte di un mondo che è quello di Vinci di Vinci Energy iniziare con una presenza in a livello globale abbiamo quindi arriviamo in fondo al nostro viaggio alle nostre alla nostra cosa ricordando forse la cosa più importante che abbiamo detto business sì quello che ci può essere ma sicuramente un human touch che probabilmente ci contraddistingue su cui crediamo in maniera particolare perché crediamo che quello può fare la differenza rispetto anche ad altri nostri competitor mi ringrazio Maria Luce mi sa che sei in muto ancora almeno vedo scusami hai ragione ottimo allora una bellissima presentazione infatti si fanno anche complimenti era molto completa ti faccio un paio di domande prima di salutarti allora si chiedono qual è lo stack tipico se cercate figure dev middle senior con lo stack python e se fate full remote perché sai noi abbiamo comunque una platea che è in tutta Italia assolutamente non ho capire allora la ricerca noi oggi abbiamo all'interno del nostro delle nostre esigenze un piano di sviluppo molto importante per il prossimo anno e nei prossimi anni voi considerate che come idea di piano di sviluppo nei prossimi tre anni vorremmo raddoppiare l'attuale fatturato per far questo ovviamente dovremo avere sempre più risorse e cerchiamo risorse da far crescere persone quindi che possono partire da zero che formiamo noi con cui prendiamo un percorso professionisti già fermati che possono venire su quale aree beh vi dico tutte quelle su cui abbiamo di cui abbiamo parlato veramente ognuno di noi bio manager ha creato quest'anno i propri budget dovendo inserire all'interno delle proprie strutture voi pensate che io che governo la parte di cyber security quest'anno a budget ho 11 persone in più solo per quest'anno considerando che oggi siamo una trentina di persone è il 30% in più di quello che c'è e questo lo stiamo facendo è un percorso che dopo il covid è ripreso quindi provate a immaginare che cosa può essere vale la stessa cosa quindi al di là del tecnicismo che chiedeva la nostra software factory è in ricerca quindi sì cerchiamo mandate curriculum quello che può essere poi ci saranno i colloqui in base alle esigenze ma ripeto ne abbiamo veramente tante vengono poi selezionati non saprei dirvi oggi tecnicamente cosa si cerca però oggettivamente vi assicuro che la ricerca le necessità c'è ok ti posso chiedere magari un approfondimento sulla tua business unit nel senso che tipo di competenze ha il tuo team in quanti siete allora oggi il team di cyber security proprio oggi siamo 30 persone dalla prossima settimana siamo in 36 ok andiamo a sviluppare andiamo a sviluppare il quelli che sono i servizi quindi a tutto tondo andiamo ad applicare quello che è la parte di pre vendita che chiamiamo noi dove abbiamo delle figure senior di sviluppo del business di per capire quelle che sono le esigenze dei clienti e andarne a disegnare quello che sono il progetto di cyber security le competenze che abbiamo quindi poi dopo vanno a seconda delle declinazioni abbiamo competenze in ambito legal governance e quant'altro per tutta la parte di consulenza quindi persone che sono in grado di interpretare e gestire quelle che sono le compliance che poi alla fine sono delle normative quindi talvolta che con delle terminologie non proprio tecniche d'accordo ma doverlo andare a calare su quello che è la necessità abbiamo competenze forti competenze in ambito di penetration testing quindi ethical hacking offensive team quindi persone che devono sapere un po' io le definisco sempre un po' nerd per certe cose giusto come per dare un disegno ma che hanno forti competenze in ambito di penetration test di programmazione di conoscenza degli attacchi e di quant'altro abbiamo poi persone che in realtà devono andare a implementare quelle che sono le soluzioni di sicurezza sui principali vendor di mercato noi quelli che oggi offriamo sono vendor come checkpoint palo alto sisco fortinet proof point e di queste parti qua andiamo a fare gli sviluppi d'accordo e le competenze che ci abbiamo non abbiamo non è necessario un titolo di studio abbiamo persone che sono laureate abbiamo persone che sono diplomate d'accordo seguono un percorso e sono sempre affiancate vanno poi nelle varie forme a supportare in quella che sono la parte di SOC o di gestione della security ma soprattutto di SOC è tutta la parte di figura di analista quindi conoscenze in ambito SIEM conoscenze in ambito di vulnerability management conoscenze in ambito di lo stesso penetration test gestione sulle varie tecnologie generalmente cerchiamo di tenerci sempre aggiornati e sempre super certificati e preparati su quelle che sono le tecnologie leader di mercato e un occhio invece a quelle emergenti il discorso dell'innovazione perfetto grazie Michele allora in chat ci chiedono comunque come possono candidarsi quindi io vi invito a visitare l'ufficio virtuale e prenotare proprio i colloqui con Accent Italia se non riuscite scrivete nella chat all'interno dell'ufficio virtuale o altrimenti potete candidarvi direttamente sul sito aziendale corretto quindi questo è l'iter corretto ok perfetto ringrazio Michele Forio per l'intervento ringraziamo Accent Italia buona continuazione e buon lavoro è stato un piacere conoscerla anche a me arrivederci a tutti grazie